Zazza ha sbagliato. Eh, Zazza, niente, non lo sa la partita, si è chiuso, come quello dell'Isis. Ma sabato, al molise, boh, potete capire la gioia che il film si sposa, porca. Oltre 15 anni che fa business. La dottoressa, la dottoressa. Andrei, tu, a che fa? Con il mondo. Allora, do cazzo è sciuto, l'acqua fa. Gesù non fa l'amore. Che fa Gesù? Niente. Quindi, quando è?